Eccole le macchine da presa di Fosca e Innocenti, la nuova fiction targata Mediaset che arriva in città dopo i primi Chuck a Roma. Il set è ad Arezzo, ambientazione della serie, qui siamo in via di seteria, all'ombra della pieve di Santa Maria e dai piedi di una ritrovata a Piazza Grande. Le riprese sono ovviamente top secret, ma all'ora di pranzo, tra un Chuck e l'altro, riusciamo a farci salutare dalla protagonista, Vanessa Incontrada, che sfodera un sorriso bello e sincero come la città che la sta ospitando. Purtroppo, ci dice, non posso rilasciare interviste. Nella nuova fiction di Canale 5, Vanessa Incontrada interpreta la protagonista Fosca e Innocenti, vicequestore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Sarà un'atmosfera tutta toscana, con paesaggi aretini a fare da sfondo all'avvincente trama che unirà al poliziesco anche gli appassionanti risvolti sentimentali. Le riprese saranno realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo in Tour e il Comune di Arezzo. Un'occasione ghiotta e imperdibile per la nostra città, che si sta piano piano scrollando di dosso tutta la tristezza di una tremenda pandemia.